Musica Eccoci qua gentili telespettatori, bentrovati a Refresh, buona giornata a tutti su Toscana TV e Firenze TV, buona giornata ad Andrea Vignolini, siamo pronti con la nostra segna stampa, con i titoli dei quotidiani in edicola e ovviamente tutte le notizie di oggi. È martedì 6 giugno 2023, siamo pronti per leggere la prima pagina del Corriere della Sera, l'apertura ci porta alla questione del conflitto russo-ucraino, l'esercito di Kiev all'attacco, la guerra, l'annuncio abbiamo guadagnato posizioni e Prigosin accusa i russi ci hanno sparato, il Cardinale Zuppi in Ucraina per la pace si lavora per una visita a Mosca e intanto vedete poi a centropagina la fotonotizia, Maldini verso il divorzio, rivoluzione al Milan, il caso incontro con Cardinale, non c'è accordo sul futuro di Paolo Maldini come dirigente del Milan. Poi sempre sulla prima pagina del quotidiano il Corriere della Sera ci si occupa invece della politica interna, i controlli sul PNRR, oggi il voto di fiducia, attenzione alle stelle con la Corte dei Conti e poi il Partito Democratico con i 100 giorni difficili di Eli Schlein alla guida della segreteria del PD. Poi la polemica che riguarda la Regione Lazio, Pride niente patrocinio, bufera per la scelta di Rocca, la Regione Lazio si sfila dal Pride di Roma e revoca il patrocino alla manifestazione, scoppia la polemica, intanto la Regione Lazio dice no anche all'utero in affitto. Sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera due notizie, la prima di cronaca, la confessione del killer di Senago, né vendetta né rabbia, ha ucciso Giulia senza un perché, la confessione del killer l'ha uccisa senza un motivo, ha ammesso che ce ne fosse uno, nessuna vendetta o rabbia, ha ammazzato Giulia senza un perché, ha detto al GIP il killer di Senago, dopo ha lavato il coltello, poi il corpo spostato, bagno, box, cantina, auto e nel viale. E poi parla in un'intervista Walter Veltroni, oggi Cesare Prandelli, che tra l'altro questa sera sarà al Teatro Romano di Fiesole per un'iniziativa di Lady Radio. Prandelli e il ritiro nel calcio, per me, solo brutte parole. Il mondo del calcio, i pregi, i difetti, le salite e le discese, i momenti brutti, ma anche l'allegria e il divertimento. Cesare Prandelli si racconta in questa intervista a Walter Veltroni, sul Corriere della Sera di oggi, andiamo sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica, con ovviamente i titoli e le notizie principali del giorno. Anche qua si riprende ovviamente i temi che riguardano il conflitto russo-ucraino, ma non solo. Eccoci qua sulla prima pagina, l'ora dell'attacco. Vedete Ucraina, al via la controoffensiva contro i russi, lungo tre direttrici, Donex, Baktum e Mariupol, in azione aerei e carri forniti dall'Alleanza. L'obiettivo è tagliare a sud il corridoio che unisce la Russia alla Crimea occupata, la Wagner di Prigosin. Perdiamo terreno. Il Cardinale Zuppi vola a Kiev, prima ascoltiamo gli aggrediti. E poi sempre sulla prima pagina della Repubblica di oggi c'è ovviamente l'articolo di Papa Francesco. Il Papa, la difesa del clima è un bene comune. Udienza con il gruppo Gedi per il festival sull'ambiente di Green & Blue. E vedete, vedete il Papa che riceve la stola di Green & Blue da John Elkan nella foto. E l'articolo di Papa Francesco, un dovere, la cura del creato. Poi sempre sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica, vedete la regione Lazio contro il Pride, via il patrocino al corteo. E poi parla anche l'esponente del Partito Democratico Provenzano, l'Italia scivola verso l'Ungheria. Questo è l'allarme dell'ex ministro del PD. Ancora sempre sulla prima pagina di Repubblica, con invece quello che accade in Forza Italia, parla Schifani, attuale governatore della regione Sicilia. Forza Italia non va gestita dagli amici della porta accanto. Questo è il monito di Schifani. Andiamo sulla prima pagina del quotidiano La Nazione, con ovviamente le notizie di oggi. Controlli sul PNRR. Meloni, io come Draghi. Oggi la fiducia sul decreto che modifica i poteri della Corte dei Conti. Magistrati contabili all'attacco. La Premier, nessun bavaglio. Intervista all'ex presidente della consulta Mirabelli, il piano a tempi stretti. È giustificabile eliminare la verifica concomitante. E poi sempre sulla prima pagina del quotidiano La Nazione, la missione di pace del capo dei Vescovi, inviato del Papa, Zuppi a Kiev, l'incognita Cremlino, il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi, assieme a Dimitro Lubinez, commissario del Parlamento ucraino per i diritti umanitari. Questo sulla prima pagina della Nazione. Poi richiamo il prima, che riguarda in questo caso Riparbella. Siamo in provincia di Pisa, ma a due passi da Cecina. Attenti, rallentare. Qui i bimbi giocano ancora in strada. I cartelli stradali innovativi. Questo spiega la Nazione sulla prima pagina di oggi, riportando appunto l'esperienza di Riparbella. Andiamo sulla prima pagina del quotidiano Il Tirreno, con l'edizione di Firenze, Prato e Empoli. L'apertura in questo caso ci porta invece agli ambulatori per il cancro. La notizia arriva da Firenze. Villa delle Rose apre sei nuovi spazi per fare le visite. Ci saranno macchinari per la cura e prevenzione del tumore al seno. E poi, sempre sulla prima pagina, vedete la Movida danneggia la salute dei residenti. Sentenza shock dalla Cassazione. Condanna il Comune a risarcire e apre un'ondata di richieste danni. Questa è una sentenza molto importante perché sicuramente, la vedremo ovviamente nella rassegna stampa nazionale e locale, può avere un effetto domino decisamente interessante. Gli effetti, vedete nell'articolo di commento del Tirreno, la sferanza nelle città toscane, tornare a dormire e non solo nelle città toscane. Poi siamo sempre sul Tirreno con la notizia che arriva da Prato. Molesti a 30 pazienti, radiologo a processo. Prato, secondo l'accusa, avrebbe praticato esami invasivi non necessari e senza consenso. Questo è il Tirreno. Andiamo anche sulle alte prime pagine di oggi. Partiamo dal quotidiano libero dopo la batosta elettorale. Mossa della disperazione. La sinistra è nel pallone e come sempre si affida magistrati e sindacati che attaccano il governo e minacciano scioperi. L'opposizione sono loro. Giorgia, deriva autoritaria sul PNRR. Ho prorogato le norme di Draghi. Il giornale sulla prima pagina. Le toghe si fanno guerra. Controlli e PNRR. L'Associazione Nazionale Magistrati attacca la Meloni e vuole lo sciopero. Contrari ai magistrati più moderati. Le riforme sono legittime. Anche i giudici contabili si spaccano. Questo è il giornale sulla prima di oggi. Poi siamo sul fatto quotidiano. Fregati gli alluvionati. I 2,2 miliardi sono 1,6. 30% e meno. Il decreto svela la bugia del governo Meloni. Propaganda è fatti. Il 23 maggio la Premier prometteva fondi record. Ora si scopre che sono 620 milioni in meno. E gli altri sono stati sottratti a reddito di cittadinanza. Così il fatto quotidiano ne dico oggi. La verità sulla prima pagina. I Metropol su cui i PM non indagarono. Gli inquirenti hanno ignorato clamorose incongruenze. Prima e dopo il trappolone teso a Savoini. La gente dell'Espresso Miranda e il suo compare avevano intavolato altre trattative per partite di petrolio. Tutte fallite. E nessuna degna di interesse per la procura che si accende solo quando si parla di Salvini. Intanto vedete a centro pagina. Zuppia Kiev. Londra gli scatena i falchi. I giornali invaghiti. Dei nazisti. Anti Putin. Poi sempre sulle prime pagine di oggi. Andiamo anche sulla prima pagina del manifesto. Ci vorrebbe un miracolo. Per il Cremlino la controoffessiva è iniziata con un massacro. L'Ucraina nega e si gode la nuova azione della legione ribelle nella regione russa di Belgorod. La guerra è in furia ma il Papa non si dà per vinto e invia il cardinale Zuppia Kiev in missione di pace. E proprio su questa notizia di Zuppia Kiev è emblematica la prima pagina del quotidiano riformista. Forza Don Matteo è il titolo di apertura facendo riferimento alla trattativa al viaggio del presidente della conferenza episcopale italiana. Andiamo anche sul Sole 24 Ore che si occupa del BTP Valore perché è stato un debutto dal record il primo giorno di collocamento. Ci sono stati ordini per 5,4 miliardi. Questo fa ben sperare per l'evoluzione del debito pubblico italiano. E poi a centropagina una notizia che ritroveremo anche nella rassegna stampa locale. Da Apple il visore per vivere realtà virtuale e mondo reale. Record del titolo a 184,95 dollari. Ci fermiamo per dare lo spazio alla regia e scoprire tutto quello che è accaduto il 6 giugno. Grazie all'Almanacco di oggi. Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 6 giugno. Si ricorda San Norberto Vescovo. Norberto è un nome di origine germanica composto dalle radici Nord e Bert brillante illustre. Il significato si può quindi interpretare come splendente del Nord o celebre del Nord. Dice il proverbio, è il miglior piacere del mondo quello che non lascia rimorso nella coscienza. Sono nati oggi Diego Velasquez, Thomas Mann, Bjorn Borg. Il 6 giugno 1861, dopo soli tre mesi dalla proclamazione del Regno d'Italia, muore a Torino Camillo Benzo, conte di Cavour, che ne era stato il primo presidente del Consiglio. Questo giorno del 1944 è il D-Day. Inizia, cioè, l'epilogo della Seconda Guerra Mondiale. Gli alleati del generale Eisenhower sbarcano in Normandia con un ingente spiegamento di forze. Infine, il 6 giugno 2012 vi è stato l'ultimo transito di Venere sulla traiettoria solare. Il pianeta si è interposto fra il nostro pianeta e il Sole, oscurandone una piccola parte del disco. L'evento si ripete ogni 243 anni. Charles Bukowski ha detto, la verità per fare qualunque cosa sta nella semplicità. La vita è profonda nella sua semplicità. Arrivederci da Barba Nera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. E dopo l'almanacco di oggi, anche i titoli della segna stampa sportiva. Partiamo con il Corriere allo Sport Stadio. Made in italiano, il titolo di apertura, la viola sogna. Domani a Praga la finale di conference con il West Ham. Vincenzo vuole alzare la Coppa e il regalo per commisso. Cabral, Nico e Jovic per riportare un trofeo europeo a Firenze dopo 62 anni. Una sfida da 25 gol con Michael Antonio. Qui per ovviamente uno degli avversari più temibili del West Ham. Vi ricordo poi domani dalle 17 un grande speciale su Toscana TV e Firenze TV per seguire tutte le emozioni della finale di Conference League. Andiamo anche sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport con le altre notizie del giorno per quanto riguarda il calcio. Ce n'è una clamorosa che riguarda il Milan. Milan-Maldini addio, è il titolo di apertura della Gazzetta. Finale di partita, rottura tra Cardinale e direttore tecnico. Via anche Massara ha più potere a Furlani. Pioli resta e il club assicura un futuro al top clamoroso. Il Milan viene prima di tutto e di tutti, scrive Andrea Masana nell'articolo di commento. Ci fermiamo per dare lo spazio alla regia. Torniamo tra poco su Toscana TV e Firenze TV con tutte le notizie di oggi. Restate con noi. La vostra storia è anche la nostra. E quella di tutti gli aspiranti chef. Per questo alla Cop ci sono i prezzi pop. Sulle grandi marche, grandi sconti, su tanti prodotti a scelta. Come i salumi legroni scontati del 50%. La Cop sei tu. Esplorare nuovi territori. Questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili. Il calore naturale per la mia casa. E fibra per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce. Firenze Alert è il servizio del Comune di Firenze che ti informa su situazioni di emergenza e di pubblica utilità. Firenze Alert ti avvisa con una telefonata su fisso mobile su criticità dovute a fenomeni meteorologici gravi come forte vento, pioggia abbondante e temperature molto elevate o ad altri eventi di impatto sulla città come rilevanti modifiche alla viabilità. Il servizio è gratuito e puoi annullare l'iscrizione in qualsiasi momento. Vai su firenzealert.it e compila il modulo online. Vi interessa scoprire come poter risparmiare sui costi fissi ai quali non potete rinunciare? Davide Zaccaria di Crida Vitalia, energie del futuro, leader da oltre 25 anni nel risparmio energetico. Fateci venire direttamente nella vostra casa, nella vostra azienda per dimostrarvi quanto risparmierete sui costi fissi. Crida Vitalia, energie del futuro. Sono iscritto in FIOM per essere consapevole dei miei diritti e farli valere. Perché la condivisione e l'unione di coscienze hanno un valore immenso. Perché il senso civico è al centro della nostra battaglia. Sono iscritto alla FIOM perché mi piace stare dalla parte giusta. Perché insieme possiamo fare di più. Ho scelto la FIOM per difendere i miei diritti e dare voce alle mie paure. Perché è lotta, resistenza e ostinatamente antifascista. Campagna di tesseramento FIOM CGL. Unisciti a noi. Firenze Alert è il servizio del Comune di Firenze che ti informa su situazioni di emergenza e di pubblica utilità. Firenze Alert ti avvisa con una telefonata su fisso mobile su criticità dovute a fenomeni meteorologici gravi come forte vento, pioggia abbondante e temperature molto elevate o ad altri eventi di impatto sulla città come rilevanti modifiche alla viabilità. Il servizio è gratuito e puoi annullare l'iscrizione in qualsiasi momento. Vai su firenzealert.it e compila il modulo online. Buongiorno a tutti i gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV. Di nuovo ben trovati a Refresh. Buona giornata da Andrea Vignolini. È martedì 6 giugno 2023. Abbiamo già letto insieme le prime pagine di oggi con le notizie principali del giorno. Adesso è il momento di sfogliare all'interno i giornali con le notizie da leggere con attenzione. Siamo all'interno del Corriere della Sera, pagina 6. Una delle questioni che abbiamo letto sulle prime pagine di oggi riguarda il PNRR. Meloni e le accuse di autoritarismo assurdo. Facciamo come Draghi. La difesa sulla Corte dei Conti oggi sarà in Tunisia per i migranti. Lavoriamo per evitare il default. L'imprevisto quando sei a capo del governo è la previsione più accurata. Per me che lavoro in modo schematico questo ha avuto un impatto forte. Abitare a Palazzo Chigi non ci penso nemmeno. Preferisco casa mia, spiega la Presidente del Consiglio. E poi una parte consistente degli italiani è contro gli aiuti all'Ucraina. Io sono disposta a perdere un pezzo di popolarità. Mi do cinque anni come orizzonte. Questo vuol dire che non governo guardando al consenso immediato. Sulla Schlein dice se non distingue il dissenso dalla censura in Italia sì che abbiamo un problema. Così la Meloni ovviamente su tutta una serie di temi intervistata da Nicola Porro su Rete 4. Questi ovviamente sono i temi riportati. E intanto sul dossier alluvione sceglie il modello L'Aquila lo gestirà in prima persona. La Premier domani al tavolo riunito a Palazzo Chigi. Quasi sarà la scelta sul commissario. Spiegano i suoi. Lei avrà una delega politica. E appunto il commissario straordinario è un ufficiale di governo nominato per far fronte a incarichi urgenti o straordinari tramite un accentramento e un aumento dei poteri e un'azione in deroga. Si tratta di un incarico a tempo determinato. Attualmente sono oltre 70 i commissari straordinari in carica in Italia anche per la ricostruzione dopo l'alluvione in Emilia-Romagna l'ipotesi di designare un responsabile per la gestione dei lavori necessari alla ripresa. Andiamo avanti sempre con i temi che riguardano il PNRR. Lo scontro arriva in aula. Oggi il voto di fiducia sul decreto. I limiti alla Corte dei Conti. L'opposizione attacca Mezzola con l'Italia. Buoni scambi di vedute. Vedremo la questione come andrà. Intanto intervistato ieri da Repubblica oggi dal Corriere della Sera da Maria Teresa Meli parla Carlo Calenda leader di azione che spiega certe verifiche paralizzano il governo. Ha fatto bene. Sul piano il punto è la politica. Non sa spendere né gestire. Salario minimo. Forse collaborerò con Schlein spiega Calenda che dunque avalla la decisione del governo di cancellare il doppio controllo della Corte dei Conti ma denuncia ovviamente il fatto che in questo momento il governo non sa spendere né gestire i fondi del PNRR. Il PD prenda consapevolezza del fatto che al suo interno ci sono anime che la pensano diversamente su tutto, Ucraina compresa. Io mando contributi a opposizione e maggioranza. Giovedì lanceremo il divieto sull'uso dei social ai ragazzi sotto i 13 anni. Tra noi e Italia Viva la situazione è stata chiarita i gruppi restano insieme perché lavorano bene. Le europee ne discuteremo. Questo spiega il quotidiano Il Corriere della Sera. E poi ancora sempre all'interno a pagina 9 il no delle toghe riunite il controllo resti. In assemblea anche l'idea di scrivere al Colle e all'Unione Europea poi la nota contro la norma in gioco la tutela dei cittadini. Ci sono due pensieri. Il primo del giurista Alfonso Celotto 57 anni ordinario a Roma 3 che dice un tentativo affannato processi decisionali tutti da ripensare. L'altro dell'ex giudice costituzionale Cesare Mirabelli che spiega nessuno scandalo si vigilerà ancora il sistema attuale causa dei ritardi. Questo spiega ovviamente Mirabelli. E poi ci si occupa anche del Partito Democratico. I 100 giorni di Elish Line tra le uscite tardive e il partito che febrilla sei chiusa in un bunker. per la leader critiche pubbliche e nei corridoi del Nazareno. Il luogo simbolo nella sua regione colpita dall'alluvione si è vista in ritardo e in una strada deserta. E poi l'efficacia tanti nel PD le rimproverano di non essere efficace negli attacchi al governo. E ieri ospite di Telegram è stato il senatore del Partito Democratico Dario Parrini. Sentiamo cosa ha detto a proposito della situazione del partito nel suo intervento intervistato da Alessio Poggioni. La questione non è cambiare segretario attaccare il segretario il punto è chiedere a chi guida un partito complesso come il Partito Democratico che ha fatto un congresso dove c'è stata per la prima volta una dissociazione tra il risultato degli iscritti e quello delle primarie che abbia cura di questa complessità metta in campo un extra di ascolto di disponibilità al dialogo con tutte le anime del PD perché la natura plurale del PD a mio avviso è un valore aggiunto non un problema o una zavorra e questa è la richiesta che io faccio alla segretaria insieme a quella di rendere al massimo possibile chiaro ed incisivo il nostro messaggio sul piano sociale della politica economica della lotta alle disuguaglianze delle questioni che toccano da vicino l'esistenza delle famiglie delle aziende credo che il PD debba fare esattamente a Prato e Firenze è quello che noi chiediamo che faccia a livello nazionale innanzitutto chiarire nei prossimi mesi una sua visione del futuro delle due città che sono città che hanno avuto in questi ultimi anni degli ottimi sindaci che sono cresciute ma che sono città che come tutte le città italiane hanno anche ancora tanti problemi da risolvere quindi dobbiamo rendere evidente agli elettori in che senso noi proponiamo una continuità nella innovazione delle persone che sarà inevitabile e quali problemi principalmente vogliamo risolvere sulla base di questa piattaforma programmatica seria di un rapporto solido del PD con la città dobbiamo aprirci ad alleanze a sinistra e al centro io non ho nessun dubbio non ci basta guardare da una parte sola né a Firenze né a Prato e aprirci e aprirci alla selezione delle candidature nella maniera che risulterà la più necessaria io non parteciperò mai alla demonizzazione delle primarie cioè a me i dirigenti del PD che dicono le primarie no perché ci spattano ma che vuol dire questo è un partito che è nato con le primarie Ellis Line se non ci fossero state le primarie non sarebbe la segretaria del PD andiamo avanti sempre con i titoli ovviamente del quotidiano del Corriere della Sera siamo alla cronaca il femminicidio e i verbali dell'interrogatorio Alessandro Impagnatello barman di 30 anni che ha ucciso Giulia Tramontano alla sua compagna incinta al settimo mese non provavo rabbia o voglia di vendetta ha detto ho ucciso Giulia senza un motivo Impagnatello ho lavato il coltello poi l'ho rimesso a posto il 27 maggio Giulia Tramontano incinta di 7 mesi incontra la 23enne con cui il suo compagno Alessandro Impagnatello padre di suo figlio ha una relazione Giulia torna a casa con l'intento di lasciarlo lui la uccide dal suo cellulare manda poi falsi messaggi alla 23enne la ragazza si procura si preoccupa e chiama Impagnatello il 28 maggio l'omicida chiama i genitori di Giulia dicendosi preoccupato perché non la sente dalla mattina poi alle 18 denuncia la scomparsa la confessione del barman il primo giugno Impagnatello confessa di aver pugnalato Giulia e rivela dove l'ha nascosta il corpo viene trovato a luna di notte a 800 metri dalla loro casa e vedete le immagini delle telecamere a tradire Impagnatello sono state anche le immagini riprese delle telecamere davanti a casa nel fermo immagine sopra a sinistra esce di casa alle 3 del 28 maggio con un sacco sotto il braccio che pone nel bagagliaio dell'auto e alle 7 esce ancora per andare al lavoro con due sacchi questo spiega il quotidiano il Corriere della Sera poi ancora sempre con una notizia che riguarda ovviamente quello che accade sul fronte della Movida con i miei ricorsi ho sconfitto la Movida il comune pagherà ma ho cambiato casa all'epoca siamo a Brescia il sindaco era suo fratello l'uomo ha vinto in Cassazione dopo 11 anni tenetevi bene diciamo a mente questa data 11 anni i tempi della giustizia italiana Gianfranco Paroli 67 anni fratello del senatore di Forza Italia ed ex sindaco di Brescia fino al 2013 Adriano Paroli fino a due anni fa vivendo nel quartiere del Carmine a Brescia appunto di ritrovo della Movida giovanile nel 2012 iniziò la sua battaglia legale per chiedere al comune un risarcimento ebbene l'ha ottenuto l'ha ottenuto proprio 11 anni dopo questo è un tema molto interessante perché poi vedremo come questa notizia è declinata nelle pagine locali dei quotidiani siamo adesso invece al Corriere della Sera con un'intervista ovviamente di Walter Veltroni a Cesare Prandelli che parla del suo addio al calcio e poi ripercorre ovviamente i suoi momenti salienti della sua carriera un vuoto mi mancava il respiro così ho scelto di non allenare più l'ex Ct della Nazionale Antonio Conte mi è stato vicino con un'umanità straordinaria tra l'altro ovviamente sul Corriere della Sera di oggi si ricorda l'appuntamento di oggi al Teatro Romano di Fiesole con la serata organizzata da Lady Radio Grazie Cesare e all'interno ovviamente di questa intervista parla di procuratori e della libertà ora sto bene ma in panchina non tornerò più gli allenatori non dovrebbero avere procuratori altrimenti si apre un grande conflitto di interessi per questo io ho sempre voluto essere libero non vado più a vedere giocare il mio nipotino a otto anni sono già tutti impostati non possono fare più di due tocchi e non li fanno driblare ma come si fa? bisogna allenare il talento non insegnare tattiche spiega Prandelli allora dunque intanto il dato principale è questo dice mi racconta come si è reso conto di questo disagio del disagio che provava per diciamo mentre faceva l'allenatore il momento preciso e lo racconta dice era durante un Sandoria Fiorentina a febbraio del 2021 stavamo dominando la partita poi verso il settantesimo ha segnato Quagliarella per loro in quel momento ho provato una spaventosa sensazione di vuoto mi è mancato il respiro per 10 secondi credo di conoscere il sapore dell'adrenalina ma un'esperienza così non l'avevo mai provata un vuoto nero un gorgo di nulla forse il troppo amore per la Fiorentina il desiderio di strafare di portarla fuori dai guai ho parlato con le persone che sanno gestire queste situazioni di stress e mi hanno consigliato di staccare un po' mi hanno fatto questo esempio è come un chirurgo che in sala operatoria interviene tutti i giorni ma arriva un familiare e lui si blocca il chirurgo non riuscirà più ad operare una sensazione così di troppo affetto di troppo amore di troppa responsabilità mi ha tolto il respiro era il segnale e poi racconta ovviamente racconta anche di un dato interessante per quanto riguarda ovviamente il momento preciso in cui ha deciso di smettere dice lo ho capito la domenica mattina la sera avremmo incontrato il Milan la settimana prima avevamo giocato e vinto a Benevento dopo la partita ho detto sono stanco sono vuoto pensavo fosse una situazione passeggera ma in settimana non era cambiato nulla tutte le volte che arrivavo agli allenamenti avevo questo senso di disagio la società mi è stata vicino i collaboratori anche ero io che stavo male nel profondo la domenica mattina abbiamo fatto come sempre un allenamento pre-gara al mattino in palestra c'è stata una situazione nulla di che una carenza di concentrazione di solito agivo in un certo modo e la superavo quel giorno ho fatto due passi ho sentito ancora quel disagio sempre più forte mi sono riseduto e ho detto basta è la mia ultima partita in panchina e poi le cuffiette dei giocatori nello spogliatoio la cosa imbarazzante è quando tu finisci l'allenamento entri nello spogliatoio e tutti sono con il telefonino in mano non ci sono dieci minuti un quarto d'ora in cui cerchi di analizzare non so la partita che hai perso la situazione che non hai capito tutto finisce lì magari sono molto più seri i professionisti rispetto a noi ma hanno una concezione diversa del lavoro che deve essere accettata è così oggi questo ovviamente Cesare Prandelli intervistato dal Corriere della Sera intervista tutta da leggere di Walter Veltroni andiamo avanti con i titoli del giorno lo facciamo con il quotidiano La Repubblica e ovviamente le notizie principali della giornata che troviamo all'interno siamo sul caso del PNRR con invece un dato che riguarda la fase attuale ovvero quella delle gare delle opere un'azienda su 10 è troppo indebitata a rischio anche gli appalti del PNRR con i bilanci in rosso le commesse sono impossibili edilizia e servizi i settori critici questo è il punto per quanto riguarda ovviamente la situazione di indebitamento pesante generale nel commercio nell'edilizia nell'industria nei servizi nei trasporti stando vedete ai numeri del quotidiano La Repubblica che vengono riportati e che spiega in questo momento la situazione difficile anche per partecipare ai bandi del PNRR per le imprese Patuelli c'è un allarme fallimenti molti sono arrivati impreparati allo shock del rialzo dei tassi spiega Antonio Patuelli che guida l'ABI sul PNRR le banche faranno per intero la loro parte ma intendiamoci non ci saranno soldi a pioggia per nessuno poi siamo invece alla politica con l'intervista al responsabile esteri del Partito Democratico Giuseppe Provenzano è fuga dai controlli la destra porta l'Italia alla deriva ungherese tornando all'Italia non c'è un giorno che il governo non attacchi le istituzioni di garanzia Corte dei Conti RAI Banca Italia Commissione Europea c'è da preoccuparsi è un governo di estema destra che sta mostrando il suo vero volto quello che si vede in Ungheria o nella Polonia condannata proprio ieri dalla Corte di Giustizia Europea sull'indipendenza della magistratura fa impressione l'attacco al procuratore nazionale antimafia che peraltro avanzava osservazioni in uno spirito di collaborazione istituzionale non hanno capito che c'è una differenza tra governare e comandare non pensano di aver vinto le elezioni ma di essere diventati i padroni dell'Italia questo spiega Provenzano intervistato da Repubblica a proposito di politica c'è anche l'intervista al governatore della Sicilia e Big di Forza Italia Renato Schifani che spiega Forza Italia non sia gestita dagli amici della porta accanto un peccato assistere a dibattiti autoreferenziali magari appresi dalla stampa senza un confronto nel partito non abbiamo bisogno di un partito con una classe dirigente del nord e con i voti che vengono dal sud è strabismo spiega Schifani intervistato oggi da Repubblica andiamo avanti sempre all'interno del quotidiano la Repubblica con invece la tendenza l'inflazione erode anche la spiaggia sapore di mare sempre più salato rincari balneari dall'Ignano a Trapani colpa dell'energia dicono i gestori guida alle soluzioni low cost vedete i prezzi a Viareggio 40 euro a Gallipoli 80 euro a San Teodoro 60 euro a Riccione 45 a San Vitolo Capo 40 a Capri 90 ovviamente stiamo parlando dei prezzi per quanto riguarda diciamo l'ombrellone e l'esdraio e i lettini anzi ombrellone e due lettini a Capri di 90 euro compresa anche la consumazione al ristorante questo è il dato che riporta ovviamente il dato principale intanto nelle strutture recettive fino a 252 euro per una doppia volano i prezzi di hotel e B&B aumenti record nelle città d'arte ci guadagnano anche i conti pubblici attesi 678 milioni dalla tassa di soggiorno e sbarco più 9,5% rispetto al 2022 e adesso occupiamoci invece della novità che ha presentato a Apple ieri il visore del futuro per guardare insieme i mondi reali e virtuali realtà mista la tecnologia del visore permette di mescolare contenuti digitali alla realtà come vuole l'utente il Vision Pro può essere usato per lavorare comunicare guardare film e giocare senza usare computer o smartphone e vedete Tim Cook CEO di Apple che ieri a copertino ha presentato Vision Pro il nuovo visore a realtà aumentata di Apple parla Rosenberg il pioniere della realtà aumentata Luis Rosenberg che spiega potenzialità enormi ma attenti alle regole o finiremo stagi degli spot su misura viviamo incollati agli schermi dei telefonini il visore ci libererà da questa schiavitù ma le aziende potrebbero usare quel che sanno di noi per manipolarci e quindi gli spot su misura sono il minimo intanto per quanto riguarda invece la bolletta del gas freno alla discesa della bolletta è l'effetto della fine degli sconti in poche settimane il prezzo del GNL è sceso del 50% ma ieri c'è stato il primo rimbalzo e come detto la discesa della bolletta a questo momento sta frenando andiamo avanti con i titoli del quotidiano la nazione e ovviamente le notizie di oggi che leggiamo all'interno del quotidiano si ci si occupa di sanità la nazione lo sta facendo con grande attenzione e peculiarità sanità la grande malata liste d'attesa shock la mammografia ripassi tra due anni dopo il covid è sempre più difficile accedere alle prestazioni gratuite in calo la quota di persone che ha effettuato visite e accertamenti il rapporto di cittadinanza attiva mancano le risorse umane e tecniche ma ci sono anche problemi informatici ai centralini e poi vedete la situazione in Toscana attacche e risonanze anche a mezzanotte giro di vite per evitare esami inutili che ingolfano il sistema pubblico e portano via risorse e poi in Emilia Romagna niente pronto soccorso per chi non è grave siamo invece adesso alla nazione della parte ovviamente le notizie che arrivano dalla Toscana siamo a Riparbella in provincia di Pisa ma a due passi da Cecina segnaletica innovativa attenzione rallentare Riparbella il paese a misura di bambino qui si gioca ancora in strada quindi gli automobilisti sono avvisati con cinque cartelli realizzati dagli alunni della scuola elementare dal pittoresco borgo della Val di Cecina un messaggio inequivocabile vedete proprio la foto di un bambino di Riparbella mentre mostra uno dei cinque cartelli appena realizzati dove si spiega che i bambini giocano ancora per strada a Riparbella e poi siamo invece al caso che riguarda il nodo delle infrastrutture i tagli ai treni minano l'alta velocità Gianni minaccia di disertare i prossimi incontri sulla nuova stazione Mediotruria lungo la linea Milano-Roma-Napoli in particolare ovviamente tra Firenze e Roma il motivo la penalizzazione di chiusi nel nuovo calendario estivo di Trenitalia serve un ripensamento bisogna ripristinare i convogli che sono stati nel frattempo eliminati altrimenti non saremo al tavolo chiede il governatore quindi chiede che ovviamente i treni dell'alta velocità che fermano a chiusi restino ovviamente nell'orario all'interno sempre della nazione nella parte regionale con l'articolo di Luigi Caroppo sulla politica il PD toscano l'ora della segreteria la riformista fa pressing su fossi la minoranza noi leali e fiduciosi ma non siamo soprammobili ecco in omillizza venerdì la direzione spiega il quotidiano la nazione in edicola oggi e ovviamente in omillizza Luca Sani Alberta Ticciati Susanna Cenni sono alcuni dei nomi ovviamente che vengono citati nell'articolo poi siamo al quotidiano la nazione di Firenze con la fotonotizia a centro pagina vedete l'arena di Firenze calcio storico sabato la sfida tra bianchi e azzurri l'undici tocca a rossi e verdi le novità corteo diviso in due e il regbisti della nazionale magnifici messeri vi ricordo ovviamente l'appuntamento sia sabato che domenica in diretta su Toscana TV e Firenze TV una grandissima esclusiva delle nostre televisioni per vivere tutte le emozioni del calcio storico fiorentino adesso le semifinali 10 e 11 giugno il 24 di giugno San Giovanni la finalissima del calcio storico e poi sempre ovviamente per quanto riguarda invece le altre notizie vedete affitti brevi Firenze come Venezia patto tra i sindaci oggi summit del ministro Santanchè per ottenere le stesse deroghe della città Lacustre Nardella in prima linea viaggio nei condomini Airbnb dove spunta la segnaletica per educare i turisti e poi il caso delle multe Bagarre a Palazzo Vecchio spuntano 23 milioni di euro per potenziamento dei controlli e poi ancora vedete verso le elezioni il summit del centrodestra Firenze a Forza Italia Fratelli d'Italia contende Prato spiega ovviamente il quotidiano la nazione andiamo avanti sempre con i titoli che riguardano da un lato la tutela del centro storico Nardella a Roma Fasse con i sindaci per Firenze si chiede la norma Venezia oggi l'incontro con la Santanchè il sindaco tira dritto se lo Stato non si muove pronto a varare la delibera e poi l'accedolare secca sui caroni d'affitto e servizi veri tarati per i residenti le proposte del senatore Marcheschi di Fratelli d'Italia il governo è pronto a collaborare ancora sempre all'interno del quotidiano la nazione lo sporco il caos i residenti assediati non lasciate le immondizie ovunque cartelli di ogni genere affissi dai pochi fiorentini rimasti in centro e costretti a convivere con i turisti la città è riconoscibile mi sento uno straniero in casa mia non ho più vicini di casa e non sento quasi più parlare toscano e vedete favoriamo la residenza il convegno ovviamente che sarà organizzato dal che è organizzato dal Sunia e vedete Paola Galgani segretaria generale della CGL Firenze proprio sul tema ovviamente del rapporto tra residenti e turisti siamo anche al caso dell'SS delle case popolari porte blindate appese d'oro appeso d'oro per evitare gli abusivi ci rifacevano 160 case la denuncia del consigliere Draghi sarebbe stato meglio acquistarle le abitazioni vengono protette con porte anti-intrusione contro le occupazioni abusive sempre più frequenti poi siamo ovviamente alle amministrative 2024 comunali del 2024 Forza Italia dalle carte ma ora spunta l'ipotesi in un accordo con Renzi a Fratelli d'Italia interessa più giocare alla sfida di Prato città molto più contendibile gli azzurri potrebbero puntare su una donna si parla di Pieraccioni o su un civico c'è anche chi pensa a un patto per sostenere la Saccardi attenzione allora praticamente la questione è questa dell'articolo di Emanuele Baldi Fratelli d'Italia sarebbe interessata a prendersi il candidato sindaco a Prato si parlerebbe di Gianni Celli in pole position mentre per quanto riguarda Firenze praticamente la candidatura potrebbe andare a Forza Italia in questo caso rimbalza il nome di Roberta Pieraccioni capogruppo azzurro al quartiere 1 vicinissima a Marco Stella e molto attiva sul territorio ma sono voce appunto la pista più probabile sarebbe invece la scelta di un candidato civico di alto profilo e conosciuto in città nomi ancora non ce ne sono qualora saltasse l'accordo con Fratelli d'Italia per qualcuno la Beloni vista la concomitanza del voto comunale con l'elezione europea non vorrebbe rinunciare a Firenze la candidatura sarebbe quella di Jacopo Cellai per Fratelli d'Italia e infine altra ipotesi tutt'altro che remota una liaison tra il centrodestra forse senza Fratelli d'Italia e Italia Viva che potrebbe portare a una convergenza sul nome più forte di Renzi in città Stefania Saccardi fantapolitica vedremo spiega la nazione nell'articolo di oggi e poi siamo invece a pagina 6 con le multe la bagarre in aula a Palazzo Vecchio nel Salone di Degento i controlli dei vigili costano da soli 23 milioni un aumento del 600% sanzioni per 117 milioni ma metà restano da riscuotere 46 rendi contati Fratelli d'Italia è un accanimento Giorgetti solo sicurezza il trend lo dimostra e poi siamo invece al calcio storico fiorentino vedete bianchi e azzurri brividi sul sabbione la sfida eterna apre il calcio storico la novità doppio corteo pregara sabato alle 19 la prima contesa e il giorno successivo stessa ora i rossi aspettano al Varco e Verdi Pierguidi la tribuna all'ombra offrirà un gran colpo d'occhio partite trasmesse da Toscana e Firenze TV questo ricorda ovviamente la nazione con la divisione in due ottimizziamo i tempi e facciamo vivere meglio il percorso ai calcianti il sapore autentico della cittadinanza vera lontana dalle vetrine patinate e dal giro dei musei ovviamente questo il calcio storico intanto per quanto riguarda ovviamente il magnifico messere sono stati resi noti quelli per quanto riguarda le semifinali ma ancora da capire ovviamente chi sarà il magnifico messere per quanto riguarda la finale vedete i due reggbisti fiorentini Lorenzo e Niccolò Callone per quanto riguarda la semifinale sarà invece Caterina Antropova pallavolista della Savino del Bene la leggiadra Madonna questo per quanto riguarda ovviamente le scelte siamo invece a un tema che abbiamo affrontato ieri con l'onorevole Simona Bonafè deputata del Partito Democratico a Scandicci lo svincolo ovvero il casello di Scandicci stop al cantiere intervenga il governo freno ai lavori per il nuovo snodo dopo la nota del Ministro dell'Ambiente pronta da richiesta agli esponenti governativi per capire le motivazioni del ritardo poi una curiosità che riguarda in questo caso un numero demografico Sesto Fiorentino verso i 50.000 abitanti in salita il numero di stranieri le nascite sono in netto calo il dato tra i più bassi degli ultimi 25 anni aumentano le coppie aumentano i singoli e le coppie diminuiscono le famiglie con più componenti in questo momento Sesto Fiorentino ha 49.105 residenti 46 in meno rispetto al 2021 poi siamo invece a una notizia che riguarda Campi Bisenzio sciopero lo sgombero a mondo convenienza operai bloccano il passaggio arriva la polizia camion fermi all'uscita dei magazzini di capalle decine di agenti per liberare la strada il sindaco chiede un tavolo di crisi primo impegno subito per il neo primo cittadino Andrea Taglieferri che si è recato proprio ieri al magazzino e dopo l'incontro con il lavoratore di sciopero si è attivato richiedendo la regione di aprire un tavolo all'unità di crisi in modo da esaminare la situazione denunciata poi siamo ovviamente a Impruneta anche qua il neo sindaco Lazzerini e alcuni componenti vedete del consiglio comunale il consiglio muove i primi passi maggioranza e minoranza ecco gli incarichi ad Angela Cappelletti del PD la presidenza vice Gabriele Franchi dell'opposizione queste sono ovviamente le foto del primo giorno del consiglio comunale di Impruneta andiamo avanti con i titoli che riguardano Firenze lo facciamo con il quotidiano della Repubblica di Firenze l'assessore sugli autobelox le multe caleranno del 30% Fratelli d'Italia porta al sindaco una medaglia sberleffo ruireplica non si scherza la velocità è la prima causa di incidenti e poi lo strano caso dei fondi per uffici e negozi trasformati in case poi siamo ovviamente a centropagina con la questione che riguarda la finale di Conference League italiano e il rebus in attacco domani 16 pagine speciali per quanto riguarda Repubblica Firenze e poi Campus Pereira ci ha nascosto i numeri l'ex componente del comitato di indirizzo del maggio rivela che l'ex sovrintendente Alexander Pereira ha nascosto al consiglio di indirizzo la reale situazione dei conti del maggio andiamo avanti sempre con i titoli del giorno all'interno della nazione vedete questo riguarda l'urbanistica ed è un caso lo strano caso dei negozi uffici trasformati in case la rivolta del comitato dei residenti in via Foscola Scandicci come è stato possibile dare i permessi e il comune parla di verifiche in corso questo spiega nell'articolo Ernesto Ferrara intanto i sindacati con Nardella basta oneri più social housing sugli studentati invece il comitato che vuole il referendum invia una diffida al sindaco tattica dilatoria solo il collegio degli esperti può bloccare l'iter la giunta aveva approvato due delibere per modificare il piano urbanistico con un ulteriore giro di vite per gli ostelli e poi sempre ancora all'interno del quotidiano la Repubblica di Firenze noi sfruttati senza diritti i facchini in picchetto rimossi di peso dalla polizia andiamo avanti sempre con i titoli del quotidiano della Repubblica con il campus Pereira ci ha tenuto nascosto l'enorme debito del maggio l'intervista all'ex componente del consiglio di indirizzo si è sempre confrontato con noi come un gioviale pasticcione che aveva dimenticato i numeri il sindaco Nardella ci ha avvertito della situazione solo nelle ultimissime settimane andiamo avanti sempre con i titoli del quotidiano la Repubblica di Firenze Alberti Dante e Michelangelo due licei mobilitati contro le presidi per il primo oggi la manifestazione di protesta in piazza alla Vittoria nel secondo il consiglio di istituto si allinea ai genitori criticando la scelta di denunciare tre ragazzi per l'occupazione di dicembre e poi ancora le notizie che leggiamo all'interno dei quotidiani locali con in questo caso il Corriere Fiorentino e tutte le notizie locali che riguardano la Toscana andiamo subito sulla prima pagina del Corriere Fiorentino ecco qua l'apertura casa stop ai modelli manifattura emergenza abitativa alto là della CGL che può permettersi un monolocale da 500 mila euro e poi vedete Movida dalla Cassazione un assist ai residenti querelliamo il sindaco la speranza dei residenti del centro storico di Firenze nella sentenza della Cassazione che ha dato ragione a due cittadini Bresciani obbligando il comune a risarcilli per i danni della Movida Molesta citando la tutela della salute ora i comitati fiorentini si preparano esposto contro Palazzo Vecchio e poi a centro pagina proteste due grandi eventi di una sera ma disagi per settimane al piazzale è in corso il montaggio delle impalcature per l'evento di Luisa Via Roma del 18 di giugno questo spiega il quotidiano il Corriere Fiorentino e poi nel Senese chiusi senza treni veloci stop anche a due intersiti l'ira della regione che ovviamente questo come abbiamo letto anche sul quotidiano la nazione riporta appunto il fatto che il governatore Gianni non parteciperà alle future riunioni sulla stazione Medio Etruria ovvero la stazione dell'alta velocità che dovrà nascere tra Firenze e Roma nei pressi di Arezzo una stazione in più sulla linea Firenze-Roma dell'alta velocità ci fermiamo per dare lo spazio alla regia torniamo tra poco ancora con refresh e con tutte le notizie che arrivano dalla Toscana nella nostra segna stampa locale su Toscana TV e Firenze TV restate con noi Buongiorno dalla redazione Firenze Smart in studio Agnese Fedeli cominciamo dall'autostrada in A1 con dei attratti per traffico verso nord tra Calenzano e Rio 1 variante sulla Firenze mare rallentamenti ancora una volta per traffico tra Prato Ovest e il Bivio con l'A1 in direzione Firenze Fibili possibili disagi per i spostamenti mattutini tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo e arriviamo al traffico ferroviario per una riprogrammazione dell'offerta commerciale del treno regionale 18 460 Firenze Pistoia quest'oggi è cancellato i viaggiatori possono utilizzare il treno regionale 18 502 18 822 dobbiamo salutarci per il traffico urbano di Firenze tra i lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli per l'interramento della linea dell'alta tensione in via dei perfetti di Casoli il ripristino di un muro in via Suar Maria Celeste un nuovo allaccio alla rete idrica in via di Santa Maria Cintoia muoversi in Toscana Info servizio in collaborazione con la regione Toscana città metropolitana di Firenze e comune di Firenze per ora è tutto buon viaggio di Firenze Vi interessa scoprire come poter risparmiare sui costi fissi ai quali non potete rinunciare? Davide Zaccaria di Crida Vitalia Energie del Futuro leader da oltre 25 anni nel risparmio energetico fateci venire direttamente nella vostra casa nella vostra azienda per dimostrarvi quanto risparmierete sui costi fissi Crida Vitalia Energie del Futuro nelle strutture sanitarie odontoiate con i centri iris eseguiamo cure per salvare i denti o se troppo tardi sostituirli con l'implantologia osteointegrata grazie alla pluriannale esperienza del dottor Cesare Paoleschi in chirurgia dentale effettuiamo riabilitazioni di gravi atrofie con le più sofisticate tecniche chirurgiche come gli impianti zigomatici i centri iris sono in Toscana e Liguria la firma del 5 per 1000 per te è un gesto semplice che per noi fa una grande differenza nella tua dichiarazione dei redditi sostieni la Caritas diocesana di Prato basta una firma la tua aiutaci anche tu Estra come risulta dal bilancio di sostenibilità 2022 ha distribuito una ricchezza di circa 1716 milioni di euro a beneficio di soci personale fornitori enti pubblici e territori Estra Energia fornirà il metano anche per i prossimi tre anni alle pubbliche amministrazioni di Calabria Campania Lazio e Sicilia fra i clienti Estra anche Roma Capitale e la presidenza del Consiglio dei Ministri Estra ha contribuito nell'ambito del programma Mosaico Verde a ripristinare due aree del Parco Medicio di Pratolino complesso monumentale della città metropolitana di Firenze interviste esclusive video e articoli per saperne di più sulla sostenibilità di Estra uscirà a luglio il nuovo numero della newsletter in pronta Estra per iscriversi basta compilare il form nella pagina dedicata sul portale di Estra eccoci qua gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV di nuovo ben trovati a Refresh dalla segna stampa di oggi buona giornata da Andrea Vignolini è martedì 6 giugno 2023 stiamo leggendo insieme i titoli dei quotidiani in edicola e lo facciamo ripartendo dalla segna stampa locale in particolare dal Corriere Fiorentino vedete nel titolo Movida la Cassazione arma i comitati anche noi correderemo il sindaco dopo la sentenza sul caso di Brescia dove nel 2012 due residenti del centro di Brescia hanno fatto causa al comune chiedendo un risarcimento danni per la Movida l'hanno ottenuto e questo è un dato interessante c'è una sentenza della Cassazione e quindi anche a Firenze i comitati potrebbero ovviamente fare causa al comune e potrebbero seguire l'esempio di Brescia secondo la Corte la Movida mette a rischio la salute di chi vive vicino ai locali e questa è una sentenza decisamente storica intanto il Corriere Fiorentino riporta questa notizia di via Palazzuolo la droga sul telefonino e poi la sniffano seduti sul marciapiede è così tutti i giorni andiamo avanti sempre con i titoli del Corriere Fiorentino all'interno che si occupa anche della questione della casa il risveglio anti-RBNB non basta la CGL stop al modello manifattura incontro sull'emergenza abitativa la segretaria Galgani dice ma chi può vivere in monolocali da 500 mila euro l'appello famiglie e lavoratori penalizzati da scelte sbagliate servono case popolari e studentati questo spiega la CGL e poi nel taglio basso via le redi i comitati scriveremo al governo dopo il blitz per tagliare i pini e ancora proteste i nuovi alberi solo ad autunno questo spiega il quotidiano il Corriere Fiorentino sempre all'interno del Corriere Fiorentino ci si occupa invece dei disagi per quanto riguarda le feste di Pitti piazzale e oltrarno largo alla moda tra divieti tra strade chiuse e disagi due eventi di una sera spazi off limits per settimane da Luisa via Roma 140 mila euro spiega il quotidiano il Corriere Fiorentino e poi sul caso ovviamente di quello che è accaduto a Mondo Convenienza il Corriere Fiorentino spiega bene lavoriamo 14 ore per 90 euro sollevati di peso e sgomberati Campi Bisenzio il sit-in di 30 facchini di Mondo Convenienza e autisti pakistani che ieri avevano appunto inscenato questa manifestazione saluto con grande piacere il giornalista e scrittore Davide Allegranti che è con noi buongiorno Davide e benvenuto a Refresh buongiorno Andrea grazie dell'invito eccoci qua in libreria trovate quale PD viaggia nel partito di Eli Schlein edito da Editori La Terza un saggio tascabile scritto ovviamente per la collana saggità tascabile scritto da Davide Allegranti direi di grandissima attualità visto che tutti i quotidiani oggi si interrogano sui primi 100 giorni di segreteria di Eli Schlein facciamo vedere per esempio il Corriere della Sera i 100 giorni di Schlein tra le uscite tardive il partito che febrilla sei chiusa in un bunker per la leader critiche pubbliche nei corridoi del Nazareno come sono stati questi primi 100 giorni della mia segretaria Davide beh Andrea sono stati 100 giorni molto complessi anche perché insomma c'era e c'è grande aspettativa per la nuova segretaria del PD che appunto è segretaria da 100 giorni dalle primarie del 26 febbraio insomma c'era grande aspettativa per il risultato tanto che a cominciare era stato ribaltato è stato ribaltato il risultato dei circoli ricordiamo il congresso nella fase iniziale aveva premiato Stefano Bonaccini l'avversario che poi è stato sconfitto alle primarie e sono stati 100 giorni complessi perché Schlein dimostra in questo momento di non avere presa sul partito e di avere e l'effetto Schlein non c'è stato ancora insomma non c'è stato tra l'altro nella nostra Toscana come abbiamo avuto modo di vedere i ballottaggi non c'è stato a Siena a Pisa a Massa in quelle città dove la Lega e il centrodestra che oggi è ancora più consistente rispetto a prima già nel 2018 avevano conquistato queste roccaforti delle ex regioni rosse abbiamo avuto modo di capire in questi giorni l'entità del disastro della cenciata come si dice a Firenze ma è un risultato che è stato negativo in tutta Italia e Elie Schlein questo titolo del Corriere della Sela lo dice chiaramente è un po' chiusa nel bunker nel senso che si è contornata dai suoi fedelissimi si è contornata di persone di fiducia del cerchio magico Emiliano Romagnolo allontanando un po' non soltanto gli avversari sconfitti all'interno del Partito Democratico c'è Bonaccini e i suoi cosiddetti riformisti ma anche all'interno dei suoi sostenitori ci sono già delle prime crepe arrivano già le prime critiche da sinistra Andrea insomma quelli che l'hanno sostenuta si sostengono che sia troppo tiepida sulla guerra per esempio servirebbe una posizione pacifista più netta sull'economia sul lavoro si avvertono delle titubanze delle timidezze e poi ho fatto notare anche i miei articoli di questi giorni insomma questo libro poi dà conto anche delle fratture interne al Partito Democratico ci sono dei problemi perché gli sconfitti sono stati allontanati sono stati isolati ci sono state delle fughe anche dal Partito Democratico al di là di Beppe Fioroni che è stato il primo ad andarsene poi c'è stato Andrea Marcucci c'è stato Enrico Borghi tutti tra l'altro che transitano verso gli ex dirigenti del Partito Democratico che hanno fondato alle nuove volte altri partiti pensiamo al caso più camoroso è quello di Italia Viva Renzi ha fatto campagne acquisti nel Partito Democratico ingaggiando appunto dirigenti riformisti che non si sentivano più a loro agio nel Partito Democratico che adesso è molto schiacciato a sinistra Andrea Marcucci ex senatore ex capogruppo del PD dice sempre che il PD è un nuovo PDS ora forse l'accusa è molto tranasciante però quantomeno possiamo dirlo il PD ha riscoperto un'anima molto di sinistra da un certo punto di vista se vogliamo è anche comprensibile e giusto perché insomma uno dei problemi che nel libro affronto era questa identità indefinita del Partito Democratico cioè non si sapeva bene che cosa fosse negli ultimi negli ultimi cinque anni bene con Eli Schein quantomeno è vero un punto il Partito Democratico si è connotato come un partito di sinistra con un'identità senz'altro più definita almeno in teoria almeno sulla carta poi come vediamo in questi giorni in queste settimane già ci sono dei problemi il voto dell'altro giorno all'Europarlamento su i soldi da dare la possibilità di utilizzare i soldi del PNRR per produrre nuove armi dopo che i nostri nazionali sono stati svuotati perché abbiamo regalato giustamente molte armi all'Ucraina per difendersi è emblematico e da una parte c'è Lischlein che dice che il PD è contrario all'uso del PNRR per nuove armi e dall'altro lato però vota la norma prevista dall'Europarlamento che consente proprio questa possibilità insomma sono stati appena dati 500 milioni di euro per nuove armi negli azionali europei e insomma ci sono delle contraddizioni con il voto anche del PD che tra l'altro si è spaccato perché non tutti sono a favore di questa linea che qualcuno come Beppe Conte chiama bellicista è complessa è una situazione complessa nella nostra Toscana che conosciamo bene ci sono problemi non indifferenti proprio su questo Davide proprio su questo sulla Toscana guarda ti porto all'articolo di Luigi Caroppo sulla Nazione di Oggi il quotidiano nazionale su cui tu scrivi ovviamente anche i tuoi articoli PD Toscano l'ora della segreteria l'ala riformista fra pressings o fossi il punto vero è tu ti interroghi no su quale partito democratico ma secondo te l'ala riformista del partito ha capito come deve stare nel PD di Elislein oppure diciamo così è in attesa di una exit strategy un'ottima domanda Andrea non lo sappiamo ancora nel senso che abbiamo la sensazione che ancora non sia stata digerita la sconfitta del 26 febbraio alle primarie e che quindi si sono rimasti tutti molto scombussolati gli sconfitti mi riferisco ai borraciniani che in Toscana hanno una tradizione riformista piuttosto consistente c'è da dire una cosa che la sconfitta la scienciata appunto ai ballottaggi di qualche giorno fa un po' li aiuta anche qui come a livello nazionale c'è un po' di timidezza da parte del PD nazionale su alcuni temi anche il PD toscano ha mostrato una certa timidezza fin qua per esempio non c'era ancora la segreteria non c'è ancora la segreteria regionale e tutti sono lì ad attendere nuovi sviluppi e questa timidezza però è consentita entro certi limiti l'anno prossimo si vota a Firenze nel 2024 elezioni molto importanti ci sono le elezioni a Prato nel 2025 ci sono le elezioni regionali e il PD effettivamente rischia molto rischia molto perché questa destra questo destra centro come lo chiamo io è competitivo ha dimostrato di avere classe dirigente ha dimostrato di avere sindaci in grado o aspiranti sindaci in grado di vincere ma di sapersi anche confermare e l'aspetto interessante delle ultime elezioni amministrative non è soltanto la vittoria ma la rivittoria ci hanno vinto due volte permettendosi anche delle cose clamorose come spaccarsi a massa dove il sindaco uscente non aveva più il sostegno dei fratelli d'Italia che aveva sfiduciato il sindaco Francesco Perziani Francesco Perziani che si è ricandidato nel sostegno soltanto della Lega e ha vinto di nuovo ora i riformisti hanno un'occasione quantomeno per far valere le proprie idee già vedo e intravedo molto nervosismo per esempio penso che Simona Bonafè ex segretaria del PD Toscano abbia molte cose da dire penso che ce l'abbia Dario Padrini che in realtà già l'ha detta ha fatto un posto su Facebook l'altro giorno dopo la sconfitta ai ballottaggi per dire che effettivamente alcune cose non funzionano c'è da capire qual è la strategia verso Firenze 2024 si parla di primarie nei giorni scorsi per l'appunto proprio sulla Nazione tra l'altro c'era un'interessante intervista di Cecilia Del Re che insomma potrebbe essere della partita c'è da capire qual è lo schema nei confronti di altre città importanti come Prato c'è da capire cosa succede alle regionali del 2025 in una regione che lo spiego sempre io anni fa ho scritto un altro libro che si chiama Come si diventa leghisti che non è un manuale l'ho preciso sempre che raccontava e dava conto della vittoria della Lega a Pisa una città ex progressista in cui i leghisti fino a 10 anni fa neanche ne esistevano alle elezioni amministrative del 2013 avevano preso 135 voti lo 0,25% nel 2018 erano già diventati il 25% quasi 10.000 voti alle elezioni del 2023 è successo un fatto interessante il Destracentro ha rivinto ha rivinto Michele Conti Michele Conti è stato molto intelligente perché ha creato una lista civica che è arrivata a seconda nella coalizione di Destracentro quindi cosa significa? Significa che Michele Conti ha fatto un'operazione di allargamento cercando di diluire anche il proprio profilo politico molto marcato a destra e questa cosa ha funzionato e invece il centro-sinistra non riesce a riattivare quella connessione sentimentale anche con un elettorato diffuso con un elettorato civico c'è stata un'elezione abbastanza emblematica da questo punto di vista che è quella di Campi Bisenzio Andrea dove dove il PD ha perso al ballottaggio contro la sinistra sinistra e contro i 5 Stelle uniti e lì è avvenuto un fatto interessante che andrebbe analizzato tra i vincitori a partire dallo stesso nuovo sindaco di Campi ci sono molti ex dirigenti e ex iscritti al Partito Democratico lo stesso neosindaco fino al 2016 se non vado errato era un consigliere comunale del Partito Democratico è una cosa che era già avvenuta a Sesto Fiorentino non con Falchi che non è mai stato del PD ma con quelli che lo sostenevano molti erano consiglieri e dirigenti uscenti del Partito Democratico questo per dire cosa che almeno in provincia di Firenze non so se sia valido in altre parti d'Italia c'è una sinistra che fa meno del Partito Democratico che non ha bisogno del Partito Democratico che vince contro il Partito Democratico sono tutte cose secondo me la nuova dirigenza del PD in Toscana dovrebbe tenere in considerazione perché significa un fatto e l'Ishlein ha vinto le primarie del PD giocando su questo allargamento del bacino elettorale le primarie hanno ribaltato il risultato degli iscritti nel congresso quindi significa che ci deve essere un effetto Schlein di questo tipo cioè vanno a votare per il PD o si iscrivano al PD persone che non facciano parte del PD tra l'altro persone che adesso fanno parte anche della segretaria nazionale del Partito Democratico benissimo e qui abbiamo visto che l'effetto Schlein non dico che al contrario nel senso che la gente ha votato per altri perché c'è Alice Schlein che è diventata la segretaria del PD però è vero che c'è una sinistra che fa a meno di Alice Schlein che fa a meno di questo nuovo corso che si risolve i problemi da solo ora magari è una specificità della provincia di Firenze però secondo me la provincia di Firenze tra l'altro conta molto nell'equilibrio regionali e anche a livello di provincia di Firenze perché ci sono tanti abitanti eccetera eccetera e perché c'è un valore politico tra l'altro su cui adesso sarebbe lungo tornarci benissimo io penso che il PD debba analizzare davvero le regioni di questa sconfitta io nel libro provo a dare delle chiavi di lettura delle varie linee di frattura che ci sono all'interno del Partito Democratico negli ultimi anni il libro non è una risospettiva storica ma è un'analisi del PD di oggi ecco i riformisti per tornare ancora alla sua domanda non so se abbiano una risposta perché manca una leadership Andrea quella di Stefano Bonaccini è stata sconfitta in Toscana non sappiamo ancora qual è una leadership alternativa e c'è la Dario Nardella che però non è uscito brillantemente dalle primarie il coordinatore nazionale della mozione Bonaccini ha perso anche lui mi pare sia un po' in difficoltà non si è capito se si candiderà all'elezione europea leggo retroscena sui giornali dove lui potrebbe essere uno degli aspiranti parlamentari europei però come tu mi insegni come sai bene le elezioni regionali sono elezioni complesse dove bisogna prendere molti voti non soltanto in Toscana ma anche nel Lazio in Umbra nelle Marche non solo Nardella potrebbe scontrarsi con un super collegio dove dentro potrebbero esserci Gentiloni Letta nomi altisonati Zingaretti come? anche Zingaretti anche Zingaretti esatto ci sono sì appunto è un'elezione tosta la domanda che mi faccio è Nardella ha i consensi tra l'altro le elezioni europee sono davvero un'elezione complessa perché non basta neanche avere il consenso del PD locale serve il consenso del PD nazionale che dia indicazione di voto per te insomma è difficile e Nardella mi sembra che rispetto ad altre epoche rispetto agli anni scorsi abbia perso un po' di consenso tra l'altro non ha neanche un punto di riferimento nella segretaria nazionale adesso visto che è uscito sconfitto però non lo so poi insomma non so neanche quali siano i rapporti di salute fra Nardella e il PD in Toscana e il PD a Firenze insomma ha fatto delle scelte che sono state giudicate mi sembra di capire discutibili compreso aver cacciato Cecilia del Re che era insomma la più votata alle amministrative a Firenze insomma ci sono problemi di varia natura allo stadio ma ne parleremo un'altra volta magari certo volentieri Davide intanto appuntamento in libreria tra l'altro presenti il libro in questi giorni in Toscana l'8 di giugno se è a Firenze insomma ci sono vari appuntamenti li seguite ovviamente sui social di Davide Allegranti in libreria invece quale PD viaggio le partite di Elish Line edito dalla terza grazie a Davide Allegranti che è stato con noi grazie mille buona giornata grazie Andrea buona giornata noi proseguiamo con i titoli ovviamente della rassegna stampa locale velocemente con ovviamente le notizie che arrivano da Firenze e dalla Toscana all'interno del Tirreno vedete la questione della movida questa è importante bastonata in Cassazione è nociva i comuni risarciscano la Suprema Corte ha dato ragione a una coppia bresciana c'è diritto alla salute un caso scuola che potrebbe aprire una strada a richieste di danni in tutta Italia e anche in Toscana andiamo all'interno del quotidiano il Tirreno di Firenze che invece si occupa di sanità con altri sei ambulatori e macchinari innovativi recuperato uno spazio non utilizzato a Villa delle Rose per potenziare la prevenzione e la cura del tumore al seno e poi siamo al dato che riguarda gli alloggi affittati a canoni calmierati in arrivo l'obbligo per i costruttori andiamo anche all'interno del quotidiano il Tirreno nella parte di Prato alla sbarra il radiologo accusato di aver molestato 30 pazienti le donne sarebbero state invitate a spogliarsi e sottoposte a visite invasive la stessa notizia la troviamo anche su notiziediprato.it sito molto seguito e apprezzato radiologo a processo per violenza sessuale sulle pazienti decine gli episodi contestati una trentina le contestazioni tra violenza sessuale e tentata violenza i fatti risalgono al 2015 il professionista che lavorava presso istituti convenzionati con l'ASL fu sospeso dal servizio per sei mesi a luglio la sentenza andiamo avanti sempre con gli altri titoli di oggi lo facciamo con il Tirreno di Empoli stop screening al colon la denuncia del NURSID il personale infermieristico è insufficiente nei mesi di luglio e agosto molti servizi verranno sospesi per ferie andiamo avanti anche con la rassegna stampa sportiva lo facciamo partendo dal quotidiano La Nazione con ovviamente i titoli che riguardano la Fiorentina domani ovviamente l'appuntamento è su Toscana TV e Firenze TV dalle 17 per lo speciale dedicato alla finale di conference con il West Ham siamo carichi euro o mai più domani la Coppa Jovic scalpita ma occhio agli Emmers vi svegliamo i segreti del West Ham tecnici fisici ma senza identità la forza di Moyes sono le ripartenze ecco le mosse studiate da italiano due squadre quasi allo specco ma gli Emmers preferiscono attendere fondamentali le palle inattive è vero una squadra fortemente attendista e che sa sfruttare molto bene i contropiede l'ultimo dubbio di italiano l'esperienza è il riscatto Jovic si vede fra i titolari ma King Cabral non molla e poi Firenze si muove tutti all'Eden Park partito l'esodo primi tifosi a Praga pronti voli charter van e pullman e c'è chi si farà più di 10 ore di auto andiamo all'interno anche del quotidiano La Repubblica di Firenze vedete il titolo di apertura più Jovic che Cabral italiano non scioglie il dubbio in attacco ma il serbo è favorito andiamo avanti anche con i titoli del giorno per quanto riguarda ovviamente il quotidiano il Tirreno sempre con i titoli ovviamente che riguardano lo sport e il calcio verso la finale Firenze freme al Franchi 30.000 cuori viola a Praga Massi Sermini nella fanzone per ospitare che senza biglietto la città viaggia sull'onda dell'entusiasmo l'obiettivo è prendersi la Coppa giocherà Cabralo Jovic italiano tiene ancora tutti con il fiato sospeso e poi all'interno ovviamente del quotidiano il Corriere Fiorentino con le notizie che riguardano sempre la finale Jovic scatto finale è il titolo di apertura sul Corriere Fiorentino italiano ha scelto il serbo giocherà titolare nella partita contro il West Ham di domani per l'attaccante sarà l'occasione per il riscatto e per dar seguito a una promessa estiva quindi Matteo Magrini sul Corriere Fiorentino di oggi non ha dubbi giocherà Jovic nel titolare nell'attacco della Fiorentina ci fermiamo qua noi torniamo puntuali come sempre domani mattina alle 6.50 Corriere Fresh da Andrea Vignolini a tutti voi l'agulio ed una felice giornata Ale